Paola Caruso mette in apprensione i follower postando un'immagine dall'ospedale. Dopo la disgrazia di Michele, non mi sono più ripresa, il mio corpo ha avuto un trauma troppo grande, ha scritto la showgirl. Pochi giorni prima di Natale si era aperta con i fan raccontando di un problema di salute di suo figlio. Aveva accennato a terapia certamente senza entrare nei dettagli, poi le foto dei festeggiamenti di Capodanno avevano fatto supporre che il peggio fosse passato. Paola preferisce non entrare nello specifico di cose sia successo a suo figlio Michele e anche sulle sue condizioni di salute resta vaga. E in ospedale a seguito si suppone di un malore e sui social scrive Ho cercato di essere forte per mio figlio che è solo me. Ho passato un periodo troppo brutto, anzi il più brutto della mia vita è ancora continua, ma sono umana e stavolta sono crollata. Nella foto inquadra la mano e l'ago canula sul polso. Con il figlio aveva postato scatti da Monte Carlo in cui posavano soridenti sulle giostre. Niente faceva presagire un suo crollo imminente, ma solo poche ore dopo è arrivato il posto dall'ospedale. Niente faceva presagire un suo crollo imminente, ma solo poche ore dopo è arrivato il posto dall'ospedale, ma solo poche ore dopo è arrivato il posto dall'ospedale.